Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. In A1 si registrano 10 km di coda tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. In A12 possibili disagi a causa di un incidente avvenuto tra Pisa Centro e l'allacciamento con la 11 in direzione Genova. A Firenze si registrano code a causa della chiusura di via di Scandicci per una fuga di gas zona ingresso del pronto soccorso Torregalli. Con il rientra a scuola degli studenti delle superiori si è aperta una nuova fase per quanto riguarda l'organizzazione del trasporto pubblico. Gli aggiornamenti sui canali social di Muoversi in Toscana si ricorda che il numero verde per gli utenti del trasporto pubblico locale è 800 570 530 e per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!